È disponibile anche in Italia la nuova BMW Serie 6. Il restyling di metà vita del modello riguarda le varianti Coupé a due porte, Grand Coupé a quattro porte e cabrio con tetto ripieghevole in tela. La BMW Serie 6, nelle sue tre varianti, è stata rinnovata in alcuni elementi estetici e nell'equipaggiamento tecnologico, sia nel sistema offerti di serie sia in quelli acquistabili come optional. In particolare, rispetto al modello presentato nel 2011, sono stati rivisti la mascherina del radiatore a doppio rene, le bandelle laterali e posteriori, l'impianto di scarico sportivo con un suono più marcato e i cerchi da 20 pollici multirazze, quest'ultimi però disponibili tra le opzioni. Altre novità riguardano l'ingresso della dotazione di serie dei fari full LED su richiesta anche adattivi, inediti colori metallizzati delle carrozzerie, i materiali dell'abitacolo e la possibilità di avere l'allestimento interno in pelle bicolore. Nella nuova BMW Serie 6 sono stati confermati i propulsori tutti Twin Power Turbo. Per le versioni 640D, 640i e 650i, nelle tre varianti di carrozzeria sono forniti rispettivamente il 3 litri diesel da 313 cavalli, il 6 cilindri 3 litri da 320 cavalli e il V8 di 4,4 litri da 450 cavalli. I tre propulsori, sempre abbinati al cambio automatico steptronico 8 marce, sono disponibili anche in combinazione con la trazione integrale X-Drive. Al top di gamma sulle versioni più sportive M6 è stato confermato il V8 di 4,4 litri da 560 cavalli. Al prossimo episodio